La sezione Arbitri Valdarno ha pubblicato proprio in questi giorni il libro che riassume stagione per stagione 25 anni di attività dall'apertura del 1993. Anno per anno gli iscritti, le promozioni, le adesioni e la crescita fino appunto all'avere al proprio interno anche un assistente internazionale come Lorenzo Manganelli. Il Valdarno compie 25 anni, dal 1 gennaio 1993 al 2018 sono 25 anni di attività e quindi siamo veramente felici e contenti e siamo usciti con questo libro celebrativo. Che cosa c'è? Tutti i dati? All'interno anno per anno mi sembra di aver visto. Allora ci sono sì anno per anno, stagione sportiva per stagione sportiva con tutti i vari consigli direttivi, i vari associati nelle commissioni nazionali, gli arbitri immessi, gli arbitri che hanno dato le dimissioni. Quindi c'è praticamente per ogni stagione sportiva tutta la storia di quello che è successo all'interno della sezione Valdarno. Se le chiedo invece come sta andando il 2017-2018, come dice? Ma il 2017-2018 è un'annata parecchio ma parecchio importante, abbiamo delle aspettative enormi. Quindi io penso che l'organico degli associati a livello nazionale possa aumentare. In questo momento abbiamo 10 associati degli organi tecnici nazionali. Io spero il primo di luglio di poter festeggiare qualcun altro che vada ad aggiungersi appunto a quelli che già ci sono. Una serata importante, quella appena passata alla Palagina dove ricorda la nostra storia e gli anni passati insieme tra tutti gli arbitri della nostra sezione Valdarno. Vedere il libro fatto da arbitro che insomma da tanto tempo indossa la giacchetta ormai non più in nera. Un libro importante che si riferisce alla nostra storia, alla nostra vita quotidiana di questa sezione appena trascorsa dei nostri 25 anni. Il libro può fungere anche dal Manacco e per gli appassionati e può essere richiesto gratuitamente presso la sede di Via Leopardi a Montevarchi.